Davvero molto divertente questo servizio a firma di Mary Sarnataro oggi 16 aprile 2019 alle Iene in cui la bella, brava e simpatica Mary ci diciamo così porta a vedere qual è la reazione nel momento in cui dei personaggi, degli uomini sconosciuti incontrano un VIP che si va a iscrivere su Tinder la famosa applicazione che consente e permette gli incontri in questo caso ad essere stata scelta è la bella, brava e simpatica Vladimir Luxuria che ho avuto il piacere di conoscere poco tempo fa nel settembre con cui ho fatto un selfie e appunto si iscrive a Tinder grazie a Mary Sarnataro che la iscrive a Tinder incontra tre uomini cerca di diciamo così farsi apprezzare diventando molto sexy intrigante ed affascinante Vladimir Luxuria con uno dei tre poi con l'altro che è un po' più timido stessa cosa quasi poi con un altro invece rimane un pochino più diciamo così sulle sue le reazioni sono le più diverse, le reazioni sono le più ovviamente disparate ma c'è come elemento comune quello di farci sorridere quello di farci ridere in maniera completa, sagace e unica nel suo genere quello di le Iene vi ringrazio per l'ascolto, esimi utenti di Youtube iscrivetevi se vi va, commentate datemi la vostra opinione personale e un cordiale saluto a voi tutti da Narratori Italiani